radio luna ben trovati questo è radio luna io sono cias papa dall'altra parte c'è marco pece oggi parleremo di istruzione non solo parleremo di musica lo faremo con il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo petrone giuseppe natilli ciao giuseppe ciao cos'è un istituto comprensivo un istituto comprensivo è una scuola che parte dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado sai una volta si chiamava la scuola materna la scuola elementare e la scuola media adesso si chiamano scuola dell'infanzia scuola primaria e secondaria di primo grado e tu sei reggente da tre anni ma per vent'anni ha insegnato in questa scuola conosco la scuola dal 2002 ho fatto il docente lì docente di strumento musicale adesso mi pregio di dirigerla da circa tre anni tra l'altro strumento musicale ma tu stesso sei un musicista si 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 sono del sax per anni sassofonista sono nato all'interno del conservatorio perosi ho fatto diversi progetti lì con l'orchestra di sassofoni con delle collaborazioni e attualmente queste collaborazioni continuano perché noi abbiamo aperto le nostre porte al conservatorio anche nella scuola e non solo allora che cos'è sulle note della petrone sulle note della petrone la stagione di concerti che abbiamo lanciato l'anno scorso è giunta già alla seconda edizione che vede la partecipazione del liceo galanti della città del conservatorio perosi e naturalmente della nostra scuola unisce un po tutte le professionalità musicali delle tre scuole di riferimento mettendoli insieme creando una sintesi musicale sonora meravigliosa abbiamo proposto circa 6 7 date quest'anno una vera e propria stagione che vede la partecipazione di musicisti appartenenti a tutte e tre questi ordini di scuola completamente diversi in termini di età ma che sono uniti da un filo conduttore la musica naturalmente bellissima questa questo esperimento che poi non vi direi che non è più un esperimento ma è un evento ormai consolidato certo è un evento consolidatissimo perché stiamo registrando una presenza di pubblico incredibile il mio obiettivo è quello sicuramente di portare a scuola gli alunni con i propri genitori ad assistere ad un concerto dal vivo sai sentire le vibrazioni di uno strumento musicale è tutta un'altra storia si può sentire la musica con tanti strumenti ma viverla dal vivo diventa vero e proprio spettacolo anche per gli occhi ma sono molto felice perché stiamo registrando una presenza anche di pubblico che incuriosito perché l'evento è pubblicizzato per tutta la città viene lì nella nostra scuola il pomeriggio alle ore 18 e gusta di questa possibilità soprattutto ha l'opportunità di vedere musicisti da una fascia d'età che vanno dagli 11 anni agli 80 anni e questa è una meraviglia la cosa bella di cui parlavi prima è che oltre agli alunni che vengono al di fuori dell'orario di scuola vengono anche i genitori e questo direi che è una gratificazione direi assolutamente l'idea era proprio quella che gli alunni dovessero convincere letteralmente il papà la mamma il nonno la nonna lo zio a venire ad un concerto all'inizio è stata dura non è stato facile però adesso si stanno veramente divertendo e quindi vedere una sala con circa 200 ragazzi altrettanti 100 genitori assistere al concerto insieme ci dà un'idea di come sia possibile cambiare un po gli schemi di quello che oggi giorno si dice sai ragazzi sono troppo legati dallo smartphone dalle tecnologie ma noi quanto diversivo diamo a questi ragazzi diamo la possibilità di vivere delle cose di gustare il bello e noi ci siamo regalati questa possibilità i risultati sono estremamente positivi andremo avanti naturalmente ci evolveremo toccheremo anche altri temi oltre la musica perché per noi l'arte è qualcosa di meraviglioso che contiene naturalmente la musica e va detto che l'auditorium della petrone contiene appunto circa 300 posti a sedere ed è veramente bello noi abbiamo fatto delle cose insieme e sono testimone di questa cosa giuseppe tu sei un dirigente sei giovane hai famiglia hai due bimbi mi pare ma ecco come sei riuscito a come dire sai l'idea della scuola in generale è che palle mamma mia i professori la lavagna i compiti devi immaginare di starci tu ti racconto questa cosa due anni fa chiamai a fare un intervento a scuola un astronauta umberto guidoni umberto guidoni che i ragazzi sostanzialmente non conosco ormai assonato in pensione sai perché mi venne in mente di fare questa cosa perché un giorno mentre pranzavo con mia moglie dissi il mio desiderio più grande è stato sempre quello di incontrare un andare sulla lua magari ma siccome il mio desiderio era quello di esplorare lo spazio da questo punto di vista me lo sono letteralmente regalato e ancora si parla di questo evento perché colpisci a livello emozionale gli alunni tu cosa ricordi della tua vita scolastica sicuramente dei momenti che ti hanno colpito mi hai fatto in mente questa cosa mi fu regalato non mi ricordo che tipo di concorso era un atlante spaziale era tipo la seconda elementare alcuni alunni non mi ricordo per quale motivo ci diedero questa cosa e ho questo ricordo di questo dono e io quando apri questo atlante spaziale per me era incredibile quindi posso immaginare soltanto quando tu hai detto verrà un astronauta che cosa hanno pensato i tuoi alunni esatto e l'astronato è stato tutta la mattinata con noi e ha fatto fare un viaggio così immaginario nello spazio considera che Umberto Guidoni è stato il primo a mettere i piedi sulla stazione spaziale orbitante primo astronauta europeo ha conosciuto armstrong quindi parlare con lui penso sia una meraviglia anche per gli alunni che non avevano la più pallida idea di chi fosse Umberto Guidoni dell'allunaggio esatto di nulla insomma la scuola la sfida vera della scuola caro Charles è quello di trovare il modo per stimolare gli alunni i ragazzi che dobbiamo stimolare quindi sappiamo appassionare non ci sono le insegnanti con la bacchetta che bacchetta non ce ne sono per fortuna non ce ne sono più spero insomma allora insomma tu sei riuscito in qualche modo a sdoganare l'ingestatura della scuola no assolutamente sì sai sono convinto di una cosa la scuola deve passare da scuola a paesaggio didattico il paesaggio didattico è qualcosa che deve includere degli elementi che necessariamente sono esterni alla scuola ecco per noi ecco perché noi siamo partiti con una vera e propria materia Charles che si chiama didattica da fuoriclasse e cioè rompere gli schemi quadrati schematici della classe con le classiche mura e portare gli alunni nel territorio a fare lezione loro per un giorno al mese tutta la mattinata fanno lezioni curriculare in posti accreditati della città vanno in un pastificio a fare una lezione per studiare alcune leggi della fisica vanno in teatro addirittura sai cosa fanno quest'anno per dirtene una indagheranno su un delitto che è stato commesso a scuola e la polizia scientifica li guiderà a studiare tutte le leggi della fisica della scienza della biologia eccetera 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 la scuola ha bisogno di questo e allora ci vogliono tanti altri natilli in giro per sdoganare l'ingestatura della scuola che tutti noi noi ovviamente di una certa abbiamo il ricordo di insegnanti che erano solo insegnanti la pacchetta non l'hanno usata con te o perlomeno non ha avuto effetti non mi dico sono rimasto a quell'epoca però grazie a tutti